Oh, buonasera a tutti dall'Opus Aibar, rispondo velocemente, cercherò di essere veloce anche se la lettera è un po' lunga, a Rauch che mi ha risposto sul numero 748 del Capitan Nemo, il discorso è molto lungo e potete trovare la lettera qui, non la leggo tutta perché ci vuole anche tempo per leggerla, quindi comunque le argomentazioni di Rauch sono riassumendole velocemente, se poi sbaglio, anche perché leggerla tutta mi sembra essere il prete in messa, quando prendiamo due toscani e li mettiamo insieme succede sempre un disastro, quindi cercherò di essere molto rapido e sintetico spartano, quindi ho anche i diri di Rauch, Rauch è un difensore dell'ortodossia zavoriana, e va bene, tra l'altro mi sembrava leggere un vago invito a no, va bene. Allora, da una parte c'è Zagor e Giulverne, a Zagor voi avete fatto un apocrifo, l'apocrifo viene, voglio dire, con tutto il rispetto per Rauch non è Giulverne, quindi il Capitan Nemo di Rauch è quello, ma non è una parola brutta apocrifo, è una parola bella, gli apocrifi di Sherlock Holmes sono centinaia, anzi sono più gli apocrifi quel cano, cioè, quando c'è un, qui faccio un po' il professore, ma non perché voglia fare il professore a Rauch ne sarà, due o tre cose da professore le dico, non da Zagoriano, a Bodelli fa quello che gli pare. Allora, voi avete fatto un apocrifo, avete preso un personaggio di un altro autore e l'avete inserito nel vostro fumetto, questo si chiama fare un apocrifo, l'apocrifo è una storia che non era conosciuta di Capitan Nemo e che voi avete rivelato nel vostro fumetto a Zagor. Ora, in teoria gli apocrifo sarebbero romanzi e non fumetti, ma faccio questo, è un po' la questione della datazione. Allora, la questione della datazione, essendo un apocrifo, scade tutta, allora, Moreno, la teoria di Moreno-Bulattini mi sembra che Capitan, allora, Moreno-Bulattini e Rauch sono di questa convinzione. Nell'Isola Misteriosa viene detto che Capitan Nemo muore, che quando muore, muore nel 1800, nel 1800, nel 1868, e che quindi, 20 miliardi che si è sbagliato, va bene. Essendo un apocrifo ci può stare. Naturalmente, ora io non dirò che secondo me è stato un inciuffognamento, dal punto di vista l'apocrifo è un qualcosa, che non essendo nel canone, essendo nei testi canonici di Jules Verne, ci potete scrivere quello che vi pare. Anche che Jules Verne, anche che Capitan Nemo era scozzese. E qui venga anche la lista, no, Capitan Nemo era indiano, su questo l'ha scritto Jules Verne, e il fatto che Rauch, non so se ci rivelerà che, nei testi canonici, Jules Verne ha scritto che Capitan Nemo è indiano. Nell'apocrifo di Rauch mi può diventare anche scozzese. E' un apocrifo, chi se ne frega, se non se ne frega abbiamo. Per questo, io basandomi su testi canonici di Jules Verne, dicevo che l'equipaggio era indiano. Poi, voi basandomi su un altro apocrifo cinematografico di Mason, quello degli anni della Disney, degli anni 50, gli americani non sono attendibili. Gli americani sono quel popolo che hanno fatto un film su Gengis Camer, l'hanno fatto interpretare a John Wayne. Loud. Capisci? Altro che apocrifo. Già mi vedo in un cinema di Ulaanba Toro in Mongolia, vedo Joe Wayne che fa Gengis Camer. Quindi, va bene. Il vostro pubblico riferimento non può tollerare a quanto pare di vedere un equipaggio indiano, 20.000 righe sottimare. Va bene. Prendiamo atto di questa cosa, troppo innovativa. 2023 non si può fare. Si, lo so che voi avete un pubblico tradizionale. E quindi, nel vostro pubblico ci potete fare. Capitan Nemo era una ballerina di Caracas, che in realtà ha fatto una... è un apocrifo, quindi va benissimo. Nel senso che, naturalmente, gli studiosi di Jules Verne direte, nel vostro pubblico scrivete quello che vi pare. Poi, è semplicemente stato quasi ovvio che Jules Verne, quando ha scritto anni dopo l'Isa Misteriosa, ovviamente ha fatto Casino. e il Casino probabilmente deriva dal fatto che il principe polacco è stato... Jules Verne è stato costretto a sostituire il principe polacco con un indiano. Perché la datazione del principe polacco ci starebbe nel 1820, la guerra polacco-russa, eccetera. Mentre quel principe indiano, che mi sembra rivolto nel 1855-1856, non mi ricordo, gli sballati. Questa è la versione che è stata accettata dai più. Poi, la versione di Moreno Burattini e alla Bonelli ci avrete quella e, vabbè, quella è la vostra, ma ogni romanzo fa testa a sé. Dal punto di vista strutturalista, siccome non stiamo parlando di persone vere, il personaggio di un romanzo si chiude alla fine della parola fine. Quindi, nel momento in cui voi avete stato detto che avete scelto il vostro, infatti dice il nostro Capitan Nemo, infatti è il vostro, abbiamo scelto il Capitan Nemo di 20.000 di L'Isola Misteriosa. Ed è già lì, è pieno delirio, perché in inverno è lì che fa il pastrocchio. In 20.000 di L'Isola Sottimale è tutto perfettamente coerente, nel 1866-67, gli ultimi libri che sono nella biblioteca di Capitan Nemo sono nel 1866, mi sembra, aiuta alla rivolta greca di quegli anni, quindi il 20.000 di L'Isola Sottimale è perfettamente coerente, non si può smontare. Naturalmente il problema che rimane nella vostra interpretazione è che non avete spiegato perché è sbagliato la datazione dei 20.000 di L'Isola Sottimale. Cioè, se un aporio fatto un pochino più furbescamente avrebbe trovato che un narratore esterno avrebbe spiegato che Jules Verne fu costretto a cambiare la data qui dove dei consigli di sconizzatura non me la voglia Rauk la data di 20.000 di L'Isola Sottimale per motivi politici. Allora lì torneremo, perché così non vi torna lo stesso, non vi torna perché da una parte avete una cosa e dall'altra non avete spiegato perché è così. Poi fate voi, nel senso a chi se ne frega. Sull'equipaggio indiano, sui indiani, naturalmente voi vi siete basati sui film Disney e va bene, ma gli americani non sono fattivamente famosi per... Cioè, nel 1973 Marlon Brando non ritirò un Oscar perché per protesta contro l'Academy che ovviamente aveva, insomma, non era... E li accusò di razzismo, praticamente. E John Wayne era quando arrivò la... Piuma Bianca, mi chiamava. Gli facevano due tipi, la prendeva in giro. Sì, questo era un po'... Questo era un po' il clima di quel tempo. Quindi se i vostri lettori aveste... Allora, qui non si tratta di stravolgere niente. È Jules Verne che ha scritto che... Che parla una strana lingua che ovviamente il fuciniere e gli altri non capiscono perché probabilmente stanno parlando in hindù in un dialetto pali dell'India. Quindi per questo non li capiscono. Ma comunque... Perché se no, se sono inglesi... Scusate, Raochi, se sono inglesi perché parlano indiano? Non torna la cosa, no? Cioè, i marinai del Nautilus parlano una strana lingua che ovviamente Aronaz e gli altri non capiscono. Vabbè, voi avete preso il film in Disney e quello è qua. Però un modello degli anni 50 si può anche... Allora, io non vi dico niente, fate voi. Però, secondo me, ha ragione Ugo Pratt quando fece Sandro, quando fece Malesi. Tra John Wayne che fa Gengis Khan secondo me è più intelligente Ugo Pratt. Però questa è la mia idea, fate voi. Ma su questo, vabbè, su questo è l'ana caprina che chi se ne frega. Cioè, voi avete le vostre idee, io le mie. Quindi io ho ascoltato i pali di Raochi ovviamente non mi sono convertito rimando nella mia posizione eretica e olture godossa. Sulla questione forse un pochino più interessante la Splash Page ovviamente poi Raochi dice se no ti piace Zago... Vabbè, però vorrei ricordare una cosa Vabbè, non voglio entrare polemiche perché... Vabbè, leggo un po' quello che ha scritto Raochi e che glielo devo dire? Vabbè, Movedic scherzava ovviamente non ero serio, insomma, è ovvio. La Splash Page... Vabbè, detto questo l'idea di non stravolgere Zago con supposte innovazioni stilistiche o di contenuto è voluta lo so che è voluta Raochi l'ho capita non so così credibile è vincente lo so per ora quel per ora è un po' come quando Alessandro Magno disse se conquisterò Sparta eccetera eccetera gli struggerò la vostra città gli ucciderò tutti e venderò le vostre mogli i vostri figli e uno spartano disse se io ti dico per ora è vincente però come io essendo buddista come tu sai e noi buddisti crediamo che tutto sia impermanente non è una cosa cattiva ma è così quindi per ora è vincente quindi fate benissimo Zago vi fate a un suo pubblico stratificato non ho capito che vuol dire stratificato che vuol dire stratificato tutti uno sopra l'altro Raochi non mica mi vorrei dire che avete un pubblico giovanile vero? di ragazzini 12-13 anni che vengono Zago mi stai dicendo questo seriamente? no perché ti stai contraddicendo con quello che stai dicendo il vostro pubblico secondo me se va bene va da 40 in su ma io direi anche da 50 in su e il vostro pubblico certo che vuole questo Zago e vuole questo Zago lo so che vuole questo Zago però una casa editrice secondo me allora io vi cito l'esempio di Mars Bunker tu mi direi Mars Bunker in questo caso è un perdente però Mars Bunker ha sempre fatto quello che gli pareva ha stravolto il gruppo TNT e voi direte va bene è nella stessa vostra situazione però almeno lui qualche sassolino della scampa se l'è tolto e ti assicuro che Mars Bunker io leggo Alan Ford nonostante che non sia perfettamente d'accordo con la linea editoriale di Alan Ford ma lo leggo quindi in realtà i vostri lettori che vi minacciano eccetera che vi dicono lo comprerebbero ugualmente come noi Alan Ford compriamo Alan Ford a prescindere sì perché siamo affezionati a Alan Ford non lo comprerebbe più su questo non ci giurerei perché secondo me lo comprerebbe perché dunque Boneri dovrebbe modernare Zago con tematico stile estrarre al personaggio ma il personaggio non c'ha cioè il personaggio lo fate voi si è ovvio che ma cioè se mettiamo a Cico al posto di una coscia di pollo una merendina kinder non cambia ma non so o lo mettiamo a Cico a dieta nei giorni no Zago l'ha messa a dieta qualche volta vabbè ma tra lo stravolgere e fare qualche piccola modifica secondo me c'è qualcosa che si può fare non vi citerò il caso di Jenny perché la risposta di Volano Volantini che Zago metterebbe in pericolo la sua fidanzata a far ridere i polli le storie le scrivete voi se un personaggio lo volete far morire lo fate morire voi il teorema dei Monty Python dice hai ucciso il protagonista principale alla vita di Brian Di Nato sì ma tanto lo facciamo lì se oggi anche i Monty Python ce l'avevano arrivati non sia moderno ha messo in un concesso che Zago non sia moderno ma se è così moderno Rauch fammi vedere fammi vedere quanti 13-14 anni lo leggono ora mi c'è da Rauch ma io non sono per la modernità ma se avete un pubblico di 50 anni e 60 anni mi dite che avete un personaggio moderno no questo è il principio di non contraddizione poi fate voi nel senso dipende cosa intendete per moderno nel senso probabilmente le nostre idee di moderno sono un po' diverse sulla carta più moderna ma non è questione di essere moderni o meno non è questione quella è questione che la ripetitività è questo il problema ripetitività il personaggio può essere moderno antico ma se ripete le stesse storie all'infinito lo so che i vostri qui entra l'effetto prusta non c'entra nulla la vostra bravura in certi casi o ci entra certamente allora siccome io da bambino leggevo a Zagora questa gente legge la Zagora a prescindere gli ci potete mettere anche perché per loro per queste persone è un un rito andare nel microcompenza poi protesta protesta ma vi assicuro non smetterà di leggere la Zagora perché certamente un personaggio di 30 40 anni ha creato come Tex ha creato un suo pubblico lo zoccolo duro alcuni personaggi modernisti arrivano se non si creano cioè è Rauch però facciamo finta di essere di essere vabbè Sandra Valdiciano è ovvio che se io domani l'avvio c'è un personaggio Pasqualino Sette bellezze Pasqualino non è quello che vince perché è moderno se si crea un pubblico di riferimento vince è quello che Zagor ha un suo pubblico uno zoccolo duro che per ora lo sostiene quindi va bene però io credo che la Bonelli ha alcune cose secondo me alcuni problemi sono posti poi facciamo finta perché se vogliamo parlarci sinceramente io sono buddista ieri ho fatto un video in cui dicevo e mei sdoia del fiù la fiore poliante lo sole noi siamo con le fuori e foie e noi la bellezza ora secondo me la vostra filosofia la Bonelli è questa Luigi XV visse un bellissimo regno si divertì aveva un sacco damanti e morì nel suo letto poco prima di morire disse apremo alle deluce dopo di me verrà il diluvio naturalmente se io so che ho 20 30 40 anni di tranquillità ma chi me lo fa fare di rompermi le scato ma chi me lo fa fare eh ammettiamo secondo me il concetto è tutto lì e secondo secondo me è tutto lì poi io riprenderò la scelta della Bonelli è perfettamente legittima magari utilizza Zagor perché ha il progetto di lancio come ha fatto Masbunk a un certo punto sataniche e criminal l'ha usati come il trampone di lancio quando i personaggi film e sataniche stavano invecchiando li ha usati un po' per mettere da parte un po' di soldi però magari anche questo è con Zagor che adesso la Bonelli sta elaborando dei personaggi nuovi e dice tanto Zagor 20-30 anni dura e quindi va bene così in attesa di creare personaggi nuovi che stanno sicuramente pensando alla Bonelli la Bonelli del futuro dove magari non ci saremo io però il proprietario della Bonelli deve porsi questo problema nel senso qual è il suo scopo di orare altri 20-30 anni poi me ne vado alle Bahamas può anche essere questo chiudo baracchi e burattini e vado via chi se ne frega vado via chiudo baracchi i soldi li ho fatti gli sgheci sono anche perché la Bonelli come giustamente noti te vende quindi finché vende ecc quindi va bene non ho su questo non ho nessun obiezione normalmente l'obiezione sarebbe che vabbè che un minimo di adattamento ci darebbe essere però questa è la mia idea nel senso che tra stravolgere un personaggio e lasciarlo sempre così fermo e fisso e così ci può essere una via di mezzo ma questa è la mia idea anche voi ho di nemici ce n'è a bizzef il Capitan Red va bene i nemici sono a bizzef con tutti questi nemici del Capitan Red vabbè Capitan Red sì ma personaggi nuovi non vuol dire voi fate personaggi nuovi vecchi scusate e i vostri personaggi nuovi nascono vecchi è come adesso un bambino che ha già 60 anni a 5 mesi questo è un po' un problema abbiamo un altro discorso di sceneggiatura che non vorrei entrare Cico e qui arriviamo a Cico ora poi mi vede consigliata anche di cambiare testata mi sembra aver capito in base mi sembra di capire anche chi è se uno vuole se uno vuole qualcos'altro non comprizzarlo io questo non farei questo discorso non ho mai visto un host in Val di Chiana che abbia scritto sulla sua insegna mio mio dobbio fa schifo però forse la Siena funziona così ma e poi non vi chiedete perché vi hanno conquistato i fiorentini però c'è stato un motivo questa è cattivissima malvagia capito non puoi scrivere la mia osteria io vedo fa un po' schifo quello accanto è un po' meglio vabbè no andiamo a Cico chiudiamo con Cico ma prima tutto Batman Robin credo che fecero no Batman Robin la storia Batman Robin è piuttosto complicata nel senso che pretende che in Batman ci fosse più storia con il commissario Gordon Robin non l'ha citato Batman non è un buon esempio da citare Rauch perché Robin è stato ammazzato e insomma non citare il fumetto americano Rauch non lo devi neanche citare il fumetto americano lo dico subito lo devi neanche guardare con questa filosofia che avete voi il fumetto americano lo dovete guardare perché è tutta un'altra roba il fumetto americano il fumetto americano ha fatto cioè gli X-Men sono morti a decine a un certo punto Magneto è diventato il capo degli X-Men il fumetto americano voi siete l'opposto siete la negazione la Bonelli la DC e la Marvel sono materia antimateria ma anche Superman si è sposato ha fatto tutto Batman c'è una serie con i giochi cioè se voi andate a comprare degli albi di Batman è esattamente l'opposto di voi cioè siete la materia antimateria non lo citate Batman non citate il fumetto americano perché come fate come fate potete citare un fumetto americano scusate ma già questa roba qui non la fanno più cioè andate a comprare lo Spider questo era del boh di quando era del 90 95 è già roba vecchia il nuovo Spider è tutta un'altra roba se c'è un popolo moderno nel fumetto che non si è mai lasciato ha fatto di tutto di più e sono stati gli americani non lo devi citare Batman no Batman no ma neanche Super non lo dovete neanche citare cioè voi siete un mondo vostro cioè voi avete un pubblico di riferimento che è così allora quello che potreste dire è ma vedete gli americani facendo tutto questo lavoro da modernamento poi hanno perso le tue secondo me gli americani hanno capito una cosa che forse voi non lo so se avete capito o meno ma pensate davvero che scusate che il Superman sia ancora così no tutta tanta roba no il fumetto americano il fumetto ha un margine di vendita sempre più scarso perché è insidiato da mezzi molto più potenti tutto qui quindi si sono resi conto che non è questione sì voi ragionate in termini di zoccolo duro forse l'America è un paese più si trasforma di più quindi loro queste idee non ce l'hanno voi avete il vostro circolino di pensionato lo dico di qua circolino di pensionati che si legge il drama poi io non so se non lo so questa è la mia idea ora io non volevo ritornarci però visto che Rauch mi ha risposto penso di aver risposto cortesemente in maniera in maniera gentile poi ripeto io non sono direttore della Bonelli non ci lavoro fate quello che vi pare come ben puoi testimonare Rauch tutti i fumetti che ho comprato tu mi dici se non ti va bene il Zagro vada a comprare come potete giustamente testimonare i fumetti che compro non mi sono stati inviati da nessuno io vi ho dato delle mie idee poi naturalmente voi avete le vostre giustamente voi dovete seguire le vostre idee il vostro mood il vostro pensiero perché siete voi che mandate avanti la paracca dei miei consigli fateci quello che vi pare però mi ricordate tanto la Francia di Luigi XV poi io non lo so onestamente se l'azienda Bonelli magari si ritrasuscia penso un po' la Disney Rauch ti faccio l'esempio della Disney la Disney oggi che vive di Topolino ma nei frumenti di Topolino ma neanche sanno che roba è può darsi che la Bonelli stia pensando a una ritrasformazione del suo marketing eccetera eccetera io non lo so quindi magari la Disney non ha niente a che fare Topolino si lo vendono in ridicolo ma se la Disney dovesse campare di Topolino sarebbe faggita lavora nel cinema da Bonelli con il cinema lasciamo perdere Zagone non lo so quindi siete voi che dovete gestire la baracca naturalmente l'idea che finché ho questo zocco duro di lettori che mi manda avanti il personaggio va bene così può essere vincente però ci devono essere altre idee che io non voglio fare marketing nel mio lavoro però probabilmente forse c'è qualcosa che si sta trasformando la Bonelli da casa di fumetti sta diventando qualche altra cosa che ne so io non lo so quindi se la strategia è volta come nella Disney di trasformare radicalmente la baracca in qualche altra cosa la strategia di dire finché la mucca si mungi la mungiamo va benissimo è ovvio che uno finché se però questa strategia mi dà un po' più l'idea di un qualcosa che comunque io so che andrà a morire è come un posto so che ci sono gli ultimi tre o quattro secchi d'acqua lo li estraggo e poi quando è finita chi se ne frega non mi sembra una strategia volta al futuro questa è la mia idea poi su questo può darsi che mi sbaglia alla grande e che voi mi direte no ma Zagor poi direi ma io non sto parlando di 5 o 10 anni parlo ovviamente di un cioè di un mondo io penso Labonelli sappiano benissimo che già la lettura dei fumetti è alquanto scarsa quindi fumetti come Zagor e Tex non so quanto boh possono andare avanti altri 20-30 anni però non credo onestamente di più ma penso che su queste cose io credo Labonelli lo sappiano e credo sia il segreto di Puccinella anche perché se non voglio rimodernare un personaggio è ovvio che voglio sfruttare la maniera finché c'è l'oro quando l'oro è finita mi sembra che questa sia la morale può darsi che mi sbaglio come dire no ma vi sbagliate questo questo è un'oro Grazie.